Un pilota non muore mai, vola solo più in alto. Così i colleghi del capitano Fabio Antonio Altruda lo hanno salutato sulla pagina Facebook dell'Aeronautica Militare. Una foto dell'ufficiale sorridente nell'abitacolo del suo velivolo e l'augurio. Cieli blu Fabio. Le indagini e le inchieste su un incidente faranno il loro corso ma oggi è la giornata del dolore per la morte del giovane pilota 33enne. Tutta l'Aeronautica Militare a partire dal capo di stato maggiore generale di squadra aerea Luca Goretti ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del diciottesimo gruppo volo di cui il capitano Fabio Antonio Altruda faceva parte. Notte di cordoglio sono state inviate dal presidente della regione Schifani, dal ministro della difesa Crosetto, i sindaci di Marsala e di Trapani nel rivolgere le condoglianze delle due città hanno sottolineato come il capitano Altruda fosse un servitore dello Stato. Anche il prefetto di Trapani oggi nei nostri studi per un'intervista programmata ha espresso il suo cordoglio per la morte tragica del giovane ufficiale dell'Aeronautica. Un evento luttuoso ci fa pensare a un ragazzo giovane, ancora non si capisce bene la dinamica dell'evento perché erano due caccia ed erano già in fase di atterraggio quindi sembrava una manovra tranquilla. Poi è successo quello che è successo purtroppo, è successo di sera, il buio chiaramente nell'immediatezza non aiuta mai. Immaginiamo il dolore della famiglia, il dolore del trentasettesimo, attenzione perché poi si diventa una famiglia in tutti i contesti lavorativi. Poi un ragazzo appunto molto giovane di appena 33 anni quindi una giornata che si è conclusa ecco con questa notizia bruttissima anche appunto per le modalità. Peccato perché la giornata era iniziata con la brillante operazione della Polizia di Stato che aveva effettuato un ingente sequestro di droga oltre a numerosissimi ben 29 arresti e questo chiaramente aveva fatto tirare un sospiro di sollievo perché ovviamente monitoriamo tutte le situazioni di traffico, di spaccio di droga perché abbiamo a cuore i giovani della provincia perché sono purtroppo i primi e i veri destinatari.